Il lupo contro il Cavalluccio possiamo scomodare anche la zoologia per descrivere Campobasso Cesena di dopodomani a Selvapiana, fari puntati sul Molise dove certamente passa pure un pezzo di promozione in Lega Pro della squadra allenata da Peppe Angelini. Quest'ultimo non può non essere sulla graticola, il suo Cesena è sì primo ma non senza accusare qualche colpo a vuoto, non ultimo il K.O. inaspettato ad opera del Pineto che si ricorderà a lungo di aver violato domenica scorsa il Manuzzi di Cesena. Bagatti chiede ai suoi giocatori una prova di forza e di intensità contro i primi della classe. Agli ultimi lavori non hanno preso parte Di Paolo e Salvatore, ormai degenti di lunga data e lo stesso difensore La Barba che però potrebbe comunque essere disponibile per domenica pomeriggio. È stata una settimana molto movimentata anche per la società che ha dimostrato di essere sensibile rispetto alle istanze dei tifosi. Da esempio il ripensamento ultimo sul piccolo incremento che era stato applicato sui prezzi dei biglietti. Inoltre l'ennesima tegola di non poco conto ha riguardato l'avvertenza presentata dall'ex attaccante Evacuo. Al giocatore dovranno andare circa 11.500 euro. Un qualcosa di preventivato ha ammesso la società ma aggiungiamo noi il conto da saldare per il passato. Rimasto in sospeso non solo non termina mai ma sta diventando salatissimo. Ci riferiamo non solo ai compensi non corrisposti ai giocatori ma anche alle multe cadute sul capo della società per inadempienze di altri. Un fardello che davvero in pochi si sarebbero sobbarcati. Il tutto a causa di gestioni che definire allegre è poco e che per fortuna sono da relegare ad un passato che è meglio se possibile dimenticare in fretta. La tifoseria dovrà rispondere presente in massa contro il Cesena di Capitane Feudis e del portiere Agliardi che può vantare quasi 100 presenze in serie. Alcune delle quali proprio con la maglia dei bianconeri nella massima serie. La sfida ha un suo fascino anche per gli stessi tifosi del Cavalluccio che hanno iniziato ad organizzarsi già poco dopo la fine della partita di domenica. La gara è sentita anche da parte romagnola per cui è lecito attendersi pure un massiccio afflusso di tifosi ospiti. Un qualcosa di anomalo rispetto agli standard del girone F della serie D ma che certamente potrà giovare al clima di domenica sugli spalti e perché no anche al cassiere di Selvapiana. I Sernia e Dagnone vivono due situazioni distinte. In Alto Molise Foglia Manzillo prepara con grande applicazione la trasferta di Iesi. Si è avuto il riscontro sull'infortunio di Litterio. Il difensore ha effettuato la risonanza da cui non c'è nessuna lesione. Il ginocchio rimane gonfio. Si è trattato di una brutta distorsione che potrebbe tenere lontano dai campi Litterio per tre settimane. Foglia Manzillo si augura di poter recuperare il giocatore poco dopo le festività pasquali. Al Carotti potremmo rivedere una formazione non molto diversa da quella che ha battuto la Savignanese con il probabile ritorno al centro della difesa di Cassese in sostituzione del giocatore infortunato. In attacco dovrebbero esserci conferme per Ancora e Formuso con De Zai pronto eventualmente a subentrare a gara in corso. Iesi sarà crocevia importante per le sorti agnonesi prima dei due derby consecutivi contro Campobasso prima i Sernia. Poi proprio i Pentri stanno affinando le armi in vista del Giulianova in un clima sicuramente non semplice. La tifoseria non ha digerito il K.O. a Castelfidardo. Tanti sono stati i fattori messi sul banco degli imputati. Non ultimo il fatto che i fidardensi non vincevano in casa addirittura dal mese di novembre. L'Isernia a suo malgrado ha dovuto aggiornare la statistica in favore della cenerentola del Girone. L'Isernia dovrà provare a capitalizzare almeno le partite interne. Tutto sommato a quota 30. I biancocelesti non sono da soli ma in compagnia di altre tre squadre. Domenica contro il Giulianova non esisterà altro risultato che la vittoria. I giuliesi hanno dimostrato tutta la loro rabbia contro il Campobasso domenica scorsa ma all'Ancellotta saranno privi di Crisci e Tozzi-Borsoi. Il primo squalificato per quattro giornate per aver spintonato l'arbitro dopo aver ricevuto il cartellino rosso. La sfida al Giulianova si colloca prima della trasferta di Avezzano. Altro bivio stagionale per i Pentri ma anche per la squadra abruzzese che non riesce più a rialzarsi da una crisi nera. Grazie.